La ventiquattresima edizione del premio di Gianni di Venanzo, come ogni anno ci sono varie manifestazioni collaterali, importantissime anche queste perché arricchiscono il premio, manifestazioni collaterali che parlano di cinema. Questa mostra è fatta in collaborazione con il centro sperimentale Orlio Calviron e l'associazione La Ceno di Avellina con Paolo Speranza. Questo personaggio straordinario è stato Sergio Leone. La famiglia di Sergio Leone ha fatto vivere, ha dato lustro sulle tematiche del cinema. Noi parliamo del cinema già con il suo papà. Tutti questi manifesti ripercorrono la storia di Sergio Leone da bambino fino all'ultimo film che ha fatto. Questo ha dato merito anche ai nostri collaboratori, ripeto, Paolo Speranza e Orlio Calviron, che ogni anno ci danno questo contributo collaterale ma importante perché serve a far conoscere il mondo del cinema, a dargli più visibilità.